Questa sera signori, bracione a botte, bracione a botte, è partita Napoli Avellino, con il debutto del nuovo acquisto. Vai, 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 sì sì ci sto, ci sto, sì Senti scusa mi ascolti un attimo? Sì sì, ci sto Amore sono qui, sono qui che ti aspetto, non mi muovo Dimenticarti è impossibile, non puoi chiedermi di non pensare più a te e poi chiedimi tutto quello che vuoi A proposito riguardo quella cosa BASSA! Non coraggio a parlare Se mi abbandoni io mi abbraccio qui итoppiano Qui Benzstones Cuocinteriano cuocino un urivana Abbi il coraggio di affrontarmi e parlami Tu sei sicuro? Dimmi tutto, i soldi dell'affitto Un giorno ti pentirai per avermi detto queste cose con tanta cativeria fino alle osso Sapeva non bisognaодone Co' poche sono state le persone che ho amato realmente nella mia vita io voglio sapere quanto devo aspettare l'importante è saperlo rimarrò qui per sempre madame stasera è stata partita hai capito? il divano mi serve il divano stasera è mio questa sera signori bracciole a fotte è partita Napoli Avellino signori mi raccomando eh ecco madame 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 mi raccomando di rimanere piange ahi il mio personaggio piange c'è scritto c'è scritto eh madame tu quando reciti? te li scrivo non pronto io non posso arrivarci quando hanno due bypass senti tu non mi puoi dire quello che devo fare hai capito? no 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 tu non puoi dirmi quello che devo fare capito? questa è casa mia qua nessuno mi vada nessuno qua dentro può dirmi quello che devo fare lasciami la playstation subito e prendimi una birra subito ecco troglodita perché perché ce l'hai con Anteo? come hai fatto a capire che ce l'ho con lui? fa troglodita di cognome fa troglodita di cognome si ed è sposito di nome ma perché è sposito di nome? a volte non capisco quando scherzi scusami a volte? a volte? a volte? eh si questa sera la facciola a volte la città tre volte no non so capito si e va bene mamma senti già ho trovato un provino fammi vedere fammi vedere ecco te ecco te è pulito è un Beckett rivisitato due volte l'hanno visitato allora c'è bisogno di qualcuno che sappia farlo bene questo tampone fermi la mano ragazze ho bisogno di un consiglio ragazzi stasera c'è la partita fatemi entrare eh no non è possibile allo che hai cucinando? fate braciola eh ti senti il profumino fino a casa mia o io voglio fare cannavazzuolo ah fammi entrare eh no distanziamento devo dirvi una cosa importante la mochina giatemi e sono mesi che ce la vuoi vendere ma mai qua mochina la mochina è una cosa superata sono andato avanti io fatemi entrare eh è due trasigli 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 non è la signora accanto ci ho passato ancora io fatemi entrare si entra Fitz io il massimo che posso farvi posso alzare la voce avanza ancora messi però prima o poi entro vedete se entro un pallone filtrante per messi grazie ragazze non so come farei senza di voi uè io so come farei senza di te i soldi dell'affitto oh ma tu ti aspettava messi lo no ma che giocatore messi è una prima cosa non so come farei senza di te Grazie a tutti